comunicato di giuseppe bruno presidente dell'associazione vittime della strada 16 uniti per la vita abbiamo letto il comunicato di giuseppe cassaniti vedi allegato in calce francamente siamo meravigliati di come possa avere voglia di rispondere polemicamente alle nostre sacrosante precisazioni del dopo prima udienza mi chiedo a titolo personale davvero il perché abbia l'intenzione di continuare in questa azione di disturbo nei confronti di vittime della strada che chiedono solo giustizia e non hanno voglia di queste polemiche strumentali visto che sono stato tirato in ballo preciso quanto segue abbiamo contattato la ifbs nel dopo incidente per avere un sostegno ci hanno risposto due soggetti giuseppe cassaniti ed alberto pallotti dichiarandosi entrambi presidenti nazionali fin da subito tuttavia i metodi di giuseppe cassaniti non hanno trovato la nostra approvazione ci è sembrato che volesse venderci un prodotto assieme al suo avvocato abbiamo scelto di interagire con alberto pallotti che non solo si è dimostrato persona umana e sensibile ma ci è stato sempre vicino nelle manifestazioni e non ci ha mai chiesto nulla come dimostrato anche in occasione dell'udienza dell'altro giorno ha rispettato il nostro volere di non essere affiancati da nessuna associazione dall'altra parte non capiamo perché al di là di chi sia o meno il presidente ai fbs cassaniti non abbia rispettato quello che le avevamo chiesto e adesso vuole fare polemica mi chiedo dove fosse la cassaniti quando eravamo sul territorio a manifestare e chiedere giustizia non ci si può presentare nei tribunali a sostegno delle vittime quando non si gode della fiducia delle stesse non permetteremo che qualcuno sfrutti la nostra tragedia per apparire e darsi visibilità noi non siamo una macchina per produrre denaro vogliamo solo giustizia giuseppe bruno